La Campania ospita dieci piccoli ambasciatori di pace provenienti dai campi profughi algerini allestiti dopo l'occupazione del Sahara occidentale da parte del Regno del Marocco nel 1976. Insieme ai loro accompagnatori saranno ospitati in Campania fino al 24 agosto in un progetto che prevede attività ludiche, sportive e culturali. Il regista Mario Martone ha incontrato i rifugiati durante la proiezione del suo film Una storia Saharawi alla Fondazione Quartieri Spagnoli, che ospita i bambini durante il loro soggiorno a Napoli. All'evento hanno partecipato la Presidente della Fondazione Rachele Furfaro, Francesco Doria, Presidente di Tiri Sonius, responsabile dell'accoglienza a Napoli e Fatima Mahfoud, della rappresentanza diplomatica in Italia del fronte polisariano. Grazie a tutti!